Fatelo fuori e ancora sparategli, queste le incitazioni che sarebbero arrivate all'indirizzo di Matteo Renzi da Piazza Varchi a Montevarchi in cui si stava svolgendo un comizio elettorale di un leader nazionale in vista delle elezioni amministrative anche se il nome di Matteo Renzi non è mai stato fatto esplicitamente. Potremmo dire che il valore non è tanto per quello che è successo ma per quello come si è svolta la fase per cui la gente poi nella piazza ha reagito. Il primo argomento è questo perché questo dimostra che c'è una decadenza non tanto dei valori della politica ma di quelli che sono i valori delle relazioni umane. Nel momento in cui la politica si perde quel senso di valore, di etica delle relazioni delle persone c'è una decadenza che poi si ripercuote fra tutta quella che è la popolazione, gli interessi, la gente, i cittadini. Il secondo elemento però è che in quella piazza era una piazza composita e è questo che mi ha lasciato un po' stupefatto. Un gesto grave che ha portato i due consiglieri regionali di Italia Viva, Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale, e Maurizio Sguanci a presentare nel prossimo Consiglio regionale una mozione. Oggi hanno presentato una mozione per il prossimo Consiglio regionale in cui chiedono un gesto da parte delle forze politiche di solidarietà a Matteo Renzi. Se la politica viene svolta in una relazione di scontro sulle persone perde il senso e il valore della politica. La politica è relazione, la politica è la visione dell'arte del possibile per la società. Il leader nazionale di questo partito dopo però ha stigmatizzato, ha preso distanza da quanto era successo. Non se ne è accorto, non l'ha sentito quando c'era il comizio? E qui la domanda è d'obbligo, la domanda è d'obbligo e la risposta è inconseguente. Devo dirti che molto probabilmente secondo me, preso anche della situazione, io non dico che questo ci sia la volontà, però l'errore è che la gente ha reagito perché all'interno delle frasi della parte del commizio precedente, se si risente i video che sono girati nei social, è evidente che c'è dei riferimenti alle persone, al partito d'Italia Viva e che quindi chiaramente è stato un elemento quasi di reazione di quella piazza, che forse era già però bella calda, bella incandescente. Credo che però sia giusto e mi auguro che il Consiglio regionale della Toscana, quando esemmerà la mozione, abbia questo atteggiamento comunque di solidarietà a un leader politico, perché è giusto che la politica ritrovi il giusto spazio nelle relazioni e nei confronti, sui problemi, sui progetti e su quelli che sono gli interessi dei cittadini.